Io sono diventato sindaco sette mesi fa. Sette mesi fa la situazione era la seguente. 550 profughi presenti in città, alloggiati in alcune strutture, tre o quattro, concentrati in tre o quattro strutture, in più una situazione aggravata da una continuo arrivo e presenza di minori stranieri non accompagnati sul nostro territorio. Ecco, questa è la situazione che ci siamo trovati. Era una situazione evidentemente spropositata perché 550 profughi su 104.000 abitanti significa più o meno 5 ogni 1.000 abitanti. E la stessa ANCI e lo stesso Ministero degli Interni di allora dicevano che una proporzione giusta doveva essere intorno ai 2, 5, 3 ogni 1.000 abitanti. Quindi noi abbiamo semplicemente fatto capire che la situazione non poteva andare avanti in quel modo, non potevano esserci ulteriori arrivi sulla città. La città aveva già dato abbondantemente e quindi bisognava cambiare prospettiva. Bisognava che la distribuzione, ulteriori arrivi, fossero distribuiti in maniera più equa sul territorio, posto che l'origine del problema sta nel fatto che è la politica nazionale sull'immigrazione che non va bene. Perché quest'anno, nel 2016, ne sono arrivati 180.000. Quest'anno ne sono già arrivati 10.000 in un mese. Quindi quanto saranno gli arrivi nel 2017? Saranno 250.000. Nel 2018 saranno 350.000. Ma possiamo sopportare un esodo di questo genere?